8 i denunciati per rissa gravata. La questura di Taranto ha chiuso così velocemente quanto accaduto alla vigilia di Pasqua. Tristi, molto tristi e violente le immagini che girano sul web e che raccontano il pomeriggio di inaudita e reciproca cattiveria che ha segnato il sabato santo qualche ora dopo la conclusione dei riti della settimana santa. Immagini che non rendono onore alla nostra città in un periodo in cui dovremmo parlare e soprattutto agire per la pace a tutti i livelli. Siamo in via Cesare Battisti, tra via Icco e via Petrarca. Tre persone hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari all'ospedale Santissima Annunziata. Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme mentre la violenta litte veniva ripresa con i telefonini. Sul posto le volanti della polizia che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire le cause che hanno scatenato la mega rissa. Una persona ha riportato feriti alla testa ed è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza del 118. Dalle immagini si nota uno degli uomini coinvolti che afferra dal portabagagli di un'auto un oggetto e si dirige nuovamente con aria minacciosa verso il gruppo di persone con cui aveva avuto una colluttazione, venendo fermato da una donna che lo fa desistere e lo allontana. Il ferito, per il quale si sono resi necessari alcuni punti di sutura, è tenuto in osservazione in ospedale. Dopo qualche ora la rissa avrebbe avuto un secondo round. Altri due uomini, secondo fonti dell'ASL, si sono recati al pronto soccorso per farsi medicare ferite e contusioni soprattutto al volto.